Sul rapporto Stato-Regioni in Sanità, dopo le criticità messe in evidenza dalla pandemia, parliamo con il dottor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. PNRR, a che punto siamo? Rispetto a quella che è un po' la predisposizione di tutto il piano iniziale, il Governo ha fatto un ottimo lavoro e ovviamente ha rispettato le scadenze fissate al 30 giugno. Adesso sono quelle da rispettare del 31 di dicembre, dove la riforma degli IRCS è ancora rimasta un po' in sospesa a causa della crisi di Governo. Il problema adesso comincerà a partire dall'anno prossimo, quando inizierà la vera e propria fase di implementazione. Quindi fare in modo che tutte le riforme programmate, le azioni programmate, siano condivise tra 21 differenti servizi sanitari regionali, che ovviamente non partono sulla stessa riga, perché sappiamo e conosciamo quali sono le grandi differenze, soprattutto tra le regioni del nord e quelle del sud. Dove si deve intervenire per riequilibrare le differenze fra le regioni? È un aspetto molto complesso, che dipende in parte da situazioni politiche e sociali radicate nel corso dei decenni. È evidente che le autonomie regionali, a partire dalla riforma costituzionale del 2001, hanno di fatto lasciato in ambito regionale tutti quelli che sono gli aspetti di programmazione e gestione dei servizi sanitari, dove le regioni sono state lasciate forse un po' troppo libere da quelle che un'attività di indirizzo e verifica da parte dello Stato. Io personalmente non sono d'accordo con una riforma costituzionale che riporti la gestione della sanità al centro, quanto nel potenziare proprio le capacità di indirizzo e verifica delle regioni, che devono ovviamente garantire a fronte delle risorse assegnate dei servizi che siano omogenei per tutti i cittadini.